Una cordiale buonasera dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. In A1 si segnalano rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio, con la variante del Valico per traffico intenso in direzione Bologna. Rallentamenti anche in FPL tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sullarno in direzione Firenze a causa di lavori. Fare anche attenzione ad un veicolo fermo in avaria a Scandicci provenendo da Livorno. Si registra la presenza di veicoli fermi in avaria anche in A11 tra Prato-Ovest e Pistoia e tra Pistoia e Monte Catini in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda dello scambio di carreggiata a causa di lavori tra Monte Regioni e Siena in direzione Siena. Scambio di carreggiata anche sulla statale Trebis-Tiberina a causa di lavori tra Madonnuccia, Poggiolino e Pieve e Santo Stefano Sud in direzione Ravenna. Muoversi in Toscana Info, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!